L'estremo nord del Canada in cui i fantasmi vagano per la vasta tundra. I lupi artici. Isola di Elsmir, il punto più a nord in assoluto del Canada. Qui l'inverno è una notte lunga e gelida, con temperature che possono scendere anche fino a meno 50 gradi. Quando finalmente il sole sorge dopo quattro mesi di oscurità, la sua luce fioca fornisce poco calore. Pochi animali sono in grado di sopravvivere qui, a meno di mille chilometri dal polo nord. E' la tigre più famosa del mondo. Un'attemibile guerriera nota per la sua forza leggendaria. Una madre l'acquistir per egna sovrana. Ma il suo potere è in declino. Il suo tempo sta per scadere. Lei però non si arrende. Ed ora in poi la regina madre dovrà lottare contro uno dei suoi. Il suo nome è Macci. È una tigre magnifica, piena di coraggio e di fascino. Venerata in tutto il mondo, ha attratto migliaia di ammiratori devoti nel suo luogo di nascita. Il Parco Nazionale di Rantambore in India. Una splendida area naturale punteggiata dalle antiche rovine di un passato lontano. Più di mille anni fa, i guerrieri difendevano il territorio proprio da questa fortezza. Oggi, le mura diroccate appartengono a Macci. L'impareggiabile regina di Rantambore. L'impareggiabile regina di Rantambore in India. 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 Grazie a tutti.